Continua nel 2024 la 38esima edizione di Giovedì Scienza, la rassegna scientifica realizzata dall'Associazione Torinese Centro Scienza Onlus, che quest'anno propone come filo conduttore il concetto del benessere, inteso in senso ampio e sfaccettato come aspirazione ad una vita migliore, alla felicità e alla realizzazione personale. Giovedì Scienza, in programma fino al 14 marzo, coinvolge la nuova sede del Polo del Novecento, insieme al Centro di Biotecnologie Molecolari, il Politecnico di Torino e il Teatro Colosseo. Molti incontri saranno coniugati al femminile, per mettere in risalto il ruolo della donna nella scienza. Su giovedì Scienza.it è possibile consultare il programma dell'iniziativa e saranno trasmessi gli incontri in diretta streaming, che si potranno vedere successivamente anche sul canale YouTube.